Pronto? C'è tutto la», ma no!! C'è una più salita? Come se proving me, come ha fatto una cosa? Eh, un dalожно i tuoi! Ma ci scrivAMMESTOF Racing Chiamata mia, mi faccio un as الآن, terminology tu mi chiamo direttore perchè tu scherzo la capa basta, mi chiamo direttore perchè io sono venuto qui con un abito per fare la testigone ma ha scambiato tutta la pellicetta io voglio parlare con il responsabile pure la sera io, mi stai chiamando i matri 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 non lo faccio ma buongia non stai chiamando la milk cites mi stai chiamando i matri im poffè ma che caccia stai chiamando i matri Mi chiamo la finanza, mi lo fai spedire, voglio dire tu la responsabile, mi chiamo la finanza, mi chiamo pure la sicurezza, la sicurezza la che fa quando vanno a mettere le mani in taglia, io ho già pagato, senza sconto, ho già ringraziato, ma già mi sono vestito pure, No no, vado a pensare, ci走吧 a vita, ci crusano a settiman 2 mila hommaare a Johann professor, seiilesi o più vari, mi chiamo pure la propria piacere, io ci ho fatto da parte, io ho mai5000, ho tacklingся, حкіare, i miei muti, c'ho sotto la pittà, fai puoi non mi lo fa che cosa cosa non mi volete non mi volete completello nelle 4 quattro perché non mi scrive che non mi scrive che ma tu italiano roba cinese le scelte in Italia per non toglierete un cento di tenda non mi scrive che ma non mi scrive che sono tutto un'emmerita sono tutto un'emmerita sono tutto un'emmerita ma lui non è che è un invitato lui non è che cazzo di tutto che non mi ha la mente e mi diamo pure la sicurezza ma che ponte su qui tu? che stai andando a te tu? che ma io ho la politica per te quasi un cento di test mi sono venuto a dire se non mi faccio più non mi faccio più non mi faccio più non mi faccio più ok? se volevo mettere il silenzio io mi sto uccidendo io la sento che mi sconto che mi sconto a presto di la bellicetta me l'ha scoppiato eccola a presto di questa posta se non mi faccio più se non mi faccio più che non mi faccio più che non mi faccio più che non mi faccio più lei parla così perché non ti tolgo capito? capito? una cosa dovete capire prima cosa senza gritario io sono venuta a quei cagli la signorina si è alterata ha chiamato la sicurezza io non ho già messo le mani della massa io sono venuta a dire quella cosa a me che era poste no che poi le sconti ma io adesso non mi faccio più dai no no e poi stai da cazzo madri di città madri di città madri di città madri di città